Presentati stamattina dalla Centro Servizi Ambiente e Impianti nell'Aula Consigliare di Terra Nuova i risultati del progetto Tech Gas, quello di recupero della CO2 prodotta dai rifiuti organici per trasformarla in energia più pulita e a rendimento più elevato, una sperimentazione ottenuta negli ultimi due anni. All'interno della discaria di fodere rota si è creato un laboratorio, un laboratorio a cielo aperto che permette alle università e altri partner privati di poter trovare materiale per approfondire le ricerche. Queste ricerche sono molto importanti perché mirano soprattutto a ancora maggior produzione di energia da fonti rinnovabili e a cercare anche di mitigare l'impatto di un impianto di discarica nell'atmosfera. Sono state effettuate delle prove di carattere sperimentale che riguarda la rimozione della CO2 da biogas di discarica per cercare di valorizzare il biogas di discarica che è solitamente elaborato in motori a combustione interna quindi aumentarne il potere calorifico utilizzando dei processi che utilizzano in qualche modo delle scorie e quindi diciamo già dei sottoprodotti di altri processi. Vantaggi da questa nuova metodologia possono arrivare anche per tutta la popolazione. Sviluppi interessanti che sono tesi proprio a trasformare il rifiuto in risorsa soprattutto attraverso il biogas la captazione e la trasformazione in energia elettrica. L'anno scorso è stato prodotto biogas e energia elettrica per 7.000 famiglie. L'autonomia di una città di un comune come Montevarchi per intendersi che risultati estremamente significativi. Studi e sperimentazione comunque andranno avanti su questa tematica anche nei prossimi anni.